Bella raga, buongiorno, buongiorno a tutti, dunque con le due partite giocate ieri che ha visto la qualificazione di Bayern Monaco e Barcellona con Leo Messi, l'immontale Messi è arrivato a quota 100 gol in Champions League non ci sono più parole, aggettivi per descrivere un mostro così bene, domani a Neon alle ore 12 per la Champions League, alle ore 13 per l'Europa League ci sono i sorteggi dei quarti di finale di Champions e di Europa League oggi parleremo, vediamo, faremo un pre-sorteggio ecco ho combinato, vedete, dei fogliettini Juventus, Siviglia, con tutte le squadre eccole qua, ve le faccio vedere tutte le squadre che ci sono ovvero le otto squadre che sono rimaste le migliori otto d'Europa quest'anno le otto squadre dunque che sono rimaste andiamo a vedere i sorteggi, io li richiudo eccolo qua andiamo a scrivere, vediamo domani quante ne ho prese, se le ho prese, se le ho sbagliate tutte, non lo so anche se io dopo esprimo un mio pensiero, come andrà alla fine vediamo un attimo allora il sorteggio, il sorteggio bene, eccolo qua, siamo in diretta da Neon ma è vero, siamo a casa mia andiamo a vedere, andiamo a vedere alla luce di tutto senza imbroglio andiamo a vedere la prima squadra sorteggiata il Siviglia di Vincenzo Montella Siviglia, Siviglia, Siviglia andiamo a scrivere Siviglia vediamo chi affronterà sto Siviglia dunque è uscita secondo me la squadra più abbordabile come prima vediamo chi sarà la fortunata dell'urna mia beccare sto Siviglia Manchester City dunque Siviglia-Manchester City di Pep Guardiola e dunque questo è il primo accoppiamento Siviglia-Manchester City l'andata a Ramon Sanchez-Pitch 1 spero di non beccare il derby italiano vediamo la seconda squadra estratta Liverpool andiamo a vedere sto Liverpool che andrà ad affrontare andiamo a vedere Liverpool un bel Liverpool Juventus è uscita la mia Juve dunque Liverpool-Juventus se sappiamo la rivalità che ci sta da quel fattaccio dell'esel dunque evitato il derby evitato il derby almeno io l'ho evitato il derby andiamo a vedere un po' vediamo chi esce ora dall'urna esce la Roma dunque eccola qua la Roma che giocherà l'andata in casa secondo me cioè secondo il sorteccio eh la Roma sono rimaste belle squadre adesso povera Roma vediamo una casa Roma Bayern di Monaco dunque il bavaresi per la Roma secondo me e dunque andiamo a vedere giusto per il sorteggio chi giocherà l'andata in casa dunque c'è il classico di Spagna Real Madrid contro Barcellona eccoli qua non ho imbrogliato dunque sarà una bella sfida Real-Barcellona e dunque ragazzi questi sono i miei sorteggi Sevilla-Manchester City Liverpool-Juventus Roma-Bayern-Monaco Real Madrid-Barcellona secondo me in realtà ci sarò Juventus-Barcellona un Real Madrid-Roma un Manchester City-Bayern-Monaco e un Sevilla-Liverpool questi sono i miei però il mio sorteggio è questo questo è quello che vale il mio sorteggio dell'urna mia uscita questa e vediamo un po' cosa succede domani per il momento è tutto ragazzi buon proseguimento di giornata e sempre fino alla fine ciao adio